Un tweet tuo di qualche ora fa, di qualche giorno fa, che ci aveva molto preoccupato sulla tua salute, invece sono felice di vederti qui, eccolo qua, che hai scritto Dio buono, si fa fatica anche a morire, non ce la faccio, un tweet di qualche giorno fa, mi sono preoccupato quando l'ho letto, perché sai che ti voglio bene, nonostante ci siamo, abbiamo discusso più volte, ho detto ai miei redattori, invitate subito Vittorio, perché voglio vedere come sta, e stai bene, e sono davvero felice. Come si vede non ce l'ho fatta neanche a morire, adesso è che nonostante non sia riuscito a morire, lui c'è avuto una montagna di necrologi. Allora Vittorio, resta ancora un istante con noi, vado in pubblicità, dobbiamo tornare a litigare come ai bei tempi, perché così so che stai bene, hai capito? Solo se mi mandi a quel paese. Litigo solo sulle tue provocazioni che non sono mica da poco.